La casa del grande fratello. Un universo parallelo in cui si creano dinamiche e amicizie che spesso svaniscono una volta fuori dalla casa. Stefano Miele ha svelato durante una diretta Instagram che la sua amicizia con Beatrice Luzzi continua. Ma ha anche rivelato con amarezza che Sergio Dotta vi è sparito e non risponde più. I fan del grande fratello sono delusi dalla fine delle affinità tra i concorrenti. Durante una diretta su Instagram, Stefano Miele ha rivelato di mantenere ancora un rapporto di amicizia con Beatrice Luzzi, sua compagna d'avventura all'interno della casa del grande fratello. Ha inoltre anticipato che ha organizzato una riunion con l'attrice a Milano. Durante la quale spera di trascorrere del tempo insieme all'amica e divertirsi nei suoi locali preferiti. La notizia ha fatto felici i fan della coppia televisiva. Che avevano sperato che la loro amicizia potesse durare anche fuori dalla casa. Tuttavia, la rivelazione di Miele ha anche sollevato domande riguardo alla natura dei suoi rapporti con gli altri concorrenti del grande fratello. In particolare Sergio Dottavi, di cui il giovane non sembra avere notizie. L'amarezza di Stefano Miele riguardo alla scomparsa di Sergio Dottavi Durante una diretta Instagram, Stefano Miele ha espresso la sua amarezza riguardo alla scomparsa di Sergio Dottavi, suo compagno di avventura nella casa del grande fratello 2024. Rispondendo alle domande dei suoi fan sulla riunione con Beatrice Luzzi, Miele ha ammesso che non sapeva nulla del terzo membro del loro trio e che non rispondeva alle sue chiamate. Questa rivelazione ha deluso i fan che avevano seguito l'affiatamento dei tre concorrenti durante il reality show, e avevano sperato in una loro amicizia duratura al di fuori della casa. Miele ha cercato di tagliare corto sulla questione. Ma la sua espressione tradiva un certo rammarico per la mancanza di contatto con l'ex coinquilino. Delusione dei fan del grande fratello per la fine delle affinità tra i concorrenti. La delusione dei fan del grande fratello è palpabile di fronte alla fine delle affinità tra i concorrenti. La storia di amicizia tra Stefano Miele, Sergio Dottavi e Beatrice Luzzi sembrava destinata a durare anche al di fuori della casa del grande fratello. Tuttavia, durante una diretta su Instagram, Miele ha rivelato che le cose non sono andate come sperato. In particolare, l'ex GFino ha espresso amarezza riguardo alla scomparsa di Dottavi. Affermando che il concorrente sembra essersi allontanato e non risponde più. Questo ha deluso i fan che avevano seguito con entusiasmo l'affiatamento tra i tre concorrenti e speravano in un legame duraturo anche al di fuori del reality show. Le dinamiche che si creano all'interno della casa del grande fratello spesso sorprendono il pubblico. Che si appassiona alle amicizie e alle rivalità tra i concorrenti. La rivelazione di Stefano Miele sulla sua amicizia con Beatrice Luzzi e l'amarezza riguardo alla scomparsa di Sergio Dottavi hanno deluso i fan. Questo ci fa riflettere sulle relazioni che si formano durante il reality e su come possano cambiare una volta fuori dalla casa.